Ciao! Oggi realizziamo dei biscotti dedicati al giorno di San Valentino. Ah, il giorno nostro! Il giorno degli innamorati! Ah, benissimo, benissimo! Bello, bello! Allora, vedi, la festa nostra, di tanta altra gente poi! Assolutamente! Diciamo che poi è una festa un po' di tutto l'anno. Di tutto l'anno, sì, sì, esatto. Per quello che riguarda gli ingredienti abbiamo bisogno di 220 grammi di farina, meglio se semi-integrale, 50 grammi di zucchero di canna, 50 grammi di olio di girasoli, un cucchiaino di lievito per dolci, 85 grammi di latte di soia. Per glassare abbiamo bisogno di cioccolato fondente e sciolto a bagnomaria. Procediamo in cucina. In una ciotola ampia mettiamo la farina, lo zucchero di canna e il lievito. Poi aggiungiamo l'olio di girasoli e il latte di soia. Amalgamiamo bene. Stendiamo l'impasto per un'altezza di circa un centimetro e con la formina a cuoricino ricadiamo i nostri biscotti. Appoggiamo in una teglia e cuociamo in forno a 180 gradi per circa 15-20 minuti. una volta pronti e cotti e raffreddati li passiamo in una ciotolina dove abbiamo messo del cioccolato sciolto a bagnomaria. Stendiamo poi su una griglia per lasciare raffreddare e i biscotti sono pronti. E' bello tornare a cucinare per i nostri cari anche con dei semplici biscotti per tutto l'anno. Anche specialmente quando sei innamorato. Assolutamente sì. Grazie, grazie.